Tuo fratello Giuliano, ciao Giuliano, puoi tranquillamente parlare con Daiane. Ciao Daiane, stai bene? Ho un sacco di nostalgia, mi manchi. Ti desidero tanta pace, tanta buona energia. Spero che tu stia bene. Mi piacerebbe anche parlare un attimo a Rosalinda, se possibile. Ciao Giuliano. Ciao Rosalinda. Scusami l'emozionato, ma volevo ringraziarti per tutto quello che stai facendo con mia sorella, con Daiane. La stai davvero aiutando tantissimo adesso dentro la casa. Le stai dando tantissimo amore e quindi in un qualche modo sono tranquillo perché tu stai facendo tutto questo per me. Stai facendo le mie leggi. Grazie mille, dal profondo del mio cuore, davvero. Grazie mille, dal profondo del mio cuore.